Un uomo integerrimo che da molti veniva definito senza pietà, una persona allo sguardo intenso, con pochi sorrisimi e che attraverso gli occhi manifestava quello che era realmente. Un uomo limpido, abituato a rispettare e a far rispettare le regole. Regole uguali per tutti, questo era il generale Guido Conti. Chi ha avuto il piacere di conoscerlo, di poter bere un caffè con lui, ha avuto la possibilità di apprezzarne tutte le qualità. Una persona onesta sulla vita e sul lavoro. Anche con noi giornalisti ha avuto sempre rispetto e correttezza come pochi. Al grazie Guido, dopo una comunicazione ufficiale, era solito rispondere. Siete tutti uguali, si chiama collaborazione. Lo si vedeva in città di mattina presto, mai in abiti sportivi o in divisa oppure nel suo abito distinto, spesso di color sabbia, uno dei colori più classici e raffinati. Poi durante il giorno il lavoro prima di tutto e poi le sue passioni, una su tutta la sua montagna, il suo morrone, quella che ha scelto per morire buttando l'ultimo sguardo alla sua città, tra la sua natura, come a dire per l'ultima volta tutto sotto controllo. Era qui che amava passeggiare nella sua sulmona, gli si riempiva la bocca quando parlava della terra che lo aveva reso l'uomo che era. Ma Guido Conti aveva anche altre passioni, il mare al quale non rinunciava mai e le macchine antiche. Amava ripararle, rimetterle a posto, un modo per riconsegnare loro nuova linfa. Un uomo tutto di un pezzo, molto religioso e praticante, con un cuore immenso. Lo hanno sottolineato i suoi amici più cari. Era solito stare vicino a tutti, amava ascoltare e dare consigli. Era la solita spalla buona dove rifugiarsi, ma anche dove festeggiare per un lieto evento. Un uomo che molto probabilmente ha dato l'addio a quella divisa, che ha sempre indossato con dignità e fierezza, non in maniera serena, e che negli ultimi tempi li pesava come un macigno. Forse aveva capito di aver sbagliato, oppure no, questo non possiamo saperlo. Sappiamo soltanto che lascia un vuoto incolvabile nella sua terra, ma soprattutto nel ruolo che aveva ricoperto. Tutta la vicenda e molti dei passaggi non fa altro che ricondurci a Pirandello e alla disgregazione dell'io. In uno, nessuno e centomila.